Ciao, sono Zania di Turbola.it e in questo breve video vorrei rispondere a una delle domande che leggo più spesso sui gruppi di discussione incentrati sulle criptovalute. Quanto dovrei investire per cominciare a guadagnare con Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Sochi? Ovviamente rispondere è molto difficile, però facendo qualche premessa credo che possiamo trovare una regola di base valida per tutti. Seguimi e ti racconterò la mia opinione. Prima di cominciare vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbola.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Se volete una risposta secca, tenendo tanti giri di parole, alla domanda quanto devo investire in Bitcoin, la risposta è questa. Dovete investire la cifra che siete disposti a perdere senza che questo vi crei un problema concreto nella vita di tutti i giorni. Questo tradotto in parole povere che cosa significa? Significa che se vi sono rimasti solo 500 o 600 euro sul conto corrente e dovete ancora pagare l'affitto e fare la spesa, dimenticate tutto quello che riguarda Bitcoin e le criptovalute e concentratevi prima sul pagare i vostri debiti o tutto quello che vi serve per andare avanti con la vita di tutti i giorni. Una volta che avrete risolto queste importantissime e prioritarie necessità, potrete valutare di investire in Bitcoin. Ci ho detto con questa importante premessa, se volete una cifra secca dalla quale da investire in Bitcoin, il mio personalissimo parere è che possiamo partire tutti quanti con 1000 euro. Grazie, ciao al prossimo video! Scherzi a parte, come sono arrivato a questa cifra di 1000 euro? Seguitemi e vi argomenterò il mio processo mentale. Per prima cosa, permettetevi una piccola digressione. Io credo fermamente che ognuno di noi dovrebbe avere sul conto corrente sempre a disposizione una liquidità di almeno 2000 euro. Perché dico 2000 euro? Perché è una cifra che ci permette di gestire un micro micro imprevisto. Ad esempio la necessità di cambiare un elettrodomestico, una multa come quella che ho ricevuto negli ultimi giorni da quasi 400 euro, maledizione. Oppure un periodo nel quale non possiamo lavorare, un piccolo infortunio, eccetera eccetera. E' una cifra standard che dobbiamo mantenere tutti quanti sul conto corrente. Perché in questo modo non dobbiamo avere l'incubo di rivolgerci a prestiti o fidi alla primissima e ad ogni difficoltà che ci presenta la vita. Quindi abbiamo un micro salvadanaio da giocarci per gestire le emergenze. Ovviamente questa cifra è un micro micro tassellino di quello che potremmo pensare di avere, però è un buon punto di partenza. Quindi 2000 euro è la liquidità del salvadanaio che io consiglio di mantenere sul conto. Mi è perfettamente chiaro che quando parlo di 2000 euro, da un lato, per chi ad esempio ha un lavoro precario e fatica già ora a arrivare alla fine del mese, può sembrare una cifra enorme. D'altro canto, per chi invece vive una vita più agiata, può sembrare uno sputo ai quali mi risponderanno in molti, con 2000 euro non si va da nessuna parte. Sono entrambi ragionamenti molto corretti. Però, di nuovo, volendo trovare un bilanciamento per le persone normali e che sia nel mezzo di chi ha una vita agiata e chi invece fatica a arrivare alla fine del mese, credo che questa soglia sia una cifra ragionevole. Concludo questa premessa dicendovi che se non avete almeno 2000 euro di liquidità sul conto corrente, interrompete qui la lettura e la visione di tutto quello che riguarda l'universo bitcoin. Non pensate neanche per un momento di investire i pochi spicci che avete e concentratevi piuttosto sul creare questo micro salvadanaio sul conto. In che modo? Facendo un po' di rinunce. In particolare, io guardo le celle fuori, alle vacanze, ai viaggi, alla palestra, ai mille, mille magliette, capi di andumento che ognuno di noi si compra e a tutte le cretinate che acquistiamo di tanto in tanto. Costruiamo prima una piccola ricchezza, da lì potremo continuare a investire e valutare come muoverci in seguito. Una volta raggiunto il nostro obiettivo di 2000 euro sul conto corrente, dobbiamo essere estremamente fieri del traguardo che abbiamo raggiunto. Oltre perché abbiamo appunto un piccolo salvadanaio, anche perché abbiamo visto che non è impossibile farcela. Cioè, quindi con un pochino di pianificazione e qualche rinuncia, possiamo raggiungere la cifra di 2000 euro sul conto. L'abbiamo fatto ora e si può pensare di poter ripetere l'impresa in futuro. Una volta che abbiamo questo micro salvadanaio, cosa facciamo? Valutiamo di prendere 1000 euro, sempre se di nuovo la loro perdita non vi crea un disagio o un problema insormontabile nel brevissimo termine, e investirla tutto quanto in bitcoin. Perché parlo specificatamente di 1000 euro e non ad esempio di 500, 100 o 50. Dunque, si può investire in criptovalute partendo con qualsiasi cifra, quindi anche 50 o 100 euro vanno bene. Qual è il problema? Una delle pratiche per guadagnare e avere dei buoni risultati è differenziare gli investimenti. Quindi non solo comprare una determinata criptovaluta, ma scegliere un paniere di monete e di progetti nei quali crediamo e investire su molteplici monete. In questo modo, se uno va male, abbiamo la presumibile certezza che le altre possano andare meglio. Questo cosa significa? Che se stiamo puntando tutto su più cavalli, tanto per dircela, e anche uno di questi si rompe una gamba, gli altri si può sperare che arrivino al traguardo. Si chiama appunto differenziazione dell'investimento. Con cifre inferiori ai 1000 euro, la fettina di differenziazione che possiamo fare è talmente insignificante da non pesare sul nostro bilancio. Invece, se abbiamo ad esempio un 1000 euro a disposizione, possiamo pensare, sparo cifre a caso, di investirne 300 in bitcoin, quindi la valuta principale, e poi prendere i 700 che ci sono rimasti e valutare di scegliere 3 o 4 criptovalute alternative nelle quali crediamo particolarmente e suddividere fra queste tutto il resto della torta che ci è rimasta a disposizione. Ovviamente fare questo ragionamento con 50 o 100 euro ha poco senso, perché che cosa facciamo? Compriamo 30 euro di bitcoin e poi 70 euro li dividiamo in micro fettine, diventa troppo piccola, la cosa è poco significativa. Quindi, di nuovo, la mia personale raccomandazione è di partire con 1000 euro. Per inciso, se volete investire cifre minori di 1000 euro, come dicevo, è possibile farlo, ma non potete fare una grande strategia. In questo caso, prendete il vostro piccolo bruzzoletto, che siano 50 o 100 euro, scegliete una criptovaluta, una sola, e puntate tutto su quello, in modo da non fare 1000 fettine, come dicevamo prima. Quale potrebbe essere questa criptovaluta? Io personalmente raccomando bitcoin, semplicemente perché è quella più grande e più importante, ed è anche quella che ha un andamento ragionevolmente che guida il resto del mercato. Quindi è un pochino l'investimento più sicuro rispetto a tutte le alternative. Se per caso, per mille motivi, non volete puntare su bitcoin, la mia personale raccomandazione è di scommettere su litecoin, che è una moneta molto simile, tende a seguire bitcoin abbastanza da vicino, e per molti versi è anche tecnologicamente superiore. Quindi, piccole cifre, scegliete tra bitcoin e litecoin, non fate grande strategie, puntate tutto lì, non vi aspettate però ritorni colossali. E più che altro, per chi gioca con queste piccole monete, la voglia di sperimentare e di provare, che sicuramente è un buon proposito, ma non permette certamente di guadagnarci tanti soldi. All'estremo opposto, apro un piccolo inciso su chi ha disponibilità economiche maggiori. Dunque, io e tutti gli esperti di consulenza che ho, di cui ho letto le argomentazioni, i trattati, i testi, eccetera, consigliano di investire in criptovalute una cifra compresa tra il 5 e il 10% del proprio capitale totale. Quindi, ecco che se in banca abbiamo 100.000 euro, complimenti, potete pensare di investire in criptovalute una cifra compresa tra 5 e 10.000 euro, a seconda di qual è il vostro personale sentimento circa l'andamento di questo mercato in futuro. Se invece avete una disponibilità economica maggiore e state facendo delle valutazioni di investimento in criptovalute, non posso consigliarvi perché non sono un promotore finanziario, ma sono semplicemente un tecnico, vi raccomando caldamente di rivolgervi a qualcuno che ha le capacità e le competenze di consigliarvi un buon investimento. Ovviamente la maggior parte di questa gente non ci capirà niente di bitcoin e vi sconsiglierà di investirci persino un euro, ma dovevo comunque dirvelo per completezza. Scherzi a parte, se avete veramente tanti tanti soldi, vi raccomando comunque di limitare il vostro investimento di bitcoin o in criptovalute nello stesso range di 5 o 10.000 euro. Vi dico perché, è comunque un investimento estremamente rischioso perché il mercato è molto volatile, quindi potreste veramente perdere tutto quanto domani mattina. È chiaro che se avete tanti soldi non attribuite a 10.000 euro lo stesso peso che attribuiamo noi persone normali, però stiamo comunque parlando di investimenti importanti. Vi raccomando, se avete tanti soldi, di investire comunque un tetto massimo di 10.000 euro e tutto il resto che avete, di valutare di metterlo in ETF oppure BTP oppure fondi gestiti, insomma metterlo su investire in un mercato tradizionale che ha rese probabilmente un pochino inferiori rispetto a quelle delle criptovalute, ma è infinitamente più stabile e più sicuro. Secondo me, quello che farei io se avessi tanti soldi da investire sarebbe andare in questa direzione. Ovviamente però di nuovo, parlatene con un professionista qualificato. Bene, siamo arrivati alla conclusione del video, spero di avervi chiarito le idee su quello che è la quantità di monete, di patrimonio personale da investire in Bitcoin. Da zanediturbola.it è tutto, come al solito vi chiedo se il video vi è piaciuto e vi è stato utile di mettere il pollice in su cliccando qua sotto e di iscrivervi al canale per seguire i miei prossimi filmati. Ci sentiamo presto, ciao!